Borea chiude la latte sanginese, licenziati tutti i 26 dipendenti, l'annuncio sciocchio del gruppo Sardo, motivato dalla crisi del settore, ma i sindacati non ci stanno e annunciano battaglie. Carnevale si parte domenica 20 febbraio, ufficializzazione delle date arrivate dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, 6 le sfilate previste. Andiamo alla pagina politica, le elezioni, Mario Pardini candidato a sindaco, annuncio ufficiale dell'imprenditore che scende in campo con la lista Lucca 2032. Lo sport, la lucchese a Cesena in cerca di punti pesanti, rossoneri orfani di Pagliuca, decimati dagli infortuni e dalle squalifiche in campo al Manuzzi nel turno infrasettimanale. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi. In primo piano l'annuncio sciocchio è arrivato oggi dalla società sarda Arborea che gestiva la latte sanginese, problemi di settore, chiusura totale, 26 licenziamenti. Chiude la storica azienda latte sanginese, tutti licenziati i 26 dipendenti. L'annuncio sciocchio è arrivato con una lettera del gruppo Sardo Arborea 3A che nel 2018 ha rilevato la storica azienda produttrice di latte fresco del comune di Capannori. La decisione di chiudere il sito capannorese, spiega il gruppo Sardo, è conseguenza di una situazione di mercato complessa e incostante evoluzione negativa che si protrae da oltre due anni, nonostante gli sforzi e gli investimenti di Arborea a partire dal 2018. Nello specifico la proprietà addita tra le cause l'insufficiente conferimento di latte toscano a supporto dei produttori locali, ridottisi in due anni del 34%, in particolare nell'area della Garfagnana che caratterizzava il principale prodotto del latte fresco sanginese. Inoltre c'è stato il calo dei consumi e per ultimo in ordine di tempo la crisi pandemica. I volumi di vendita sono così passati da 2 milioni e 600 mila litri del 2018 a 1 milione e 460 mila litri nel 2021 e a nulla hanno giovato le riduzioni dei prezzi proposte. Il sindacato CISL Toscana Nord ha già annunciato azioni sindacali mirate a disinnescare la mina dei licenziamenti e ha definito inaccettabile la durezza e la fermezza dei contenuti senza nessuno spazio per il dialogo. È stato proclamato lo stato di agitazione. Il sindacato vuole discutere un progetto diverso dalla chiusura, convinto che il fatturato ancora esistente sia da salvare e chiede l'appoggio della politica locale e regionale per evitare immorali strategie di esternalizzazione. Apriamo un'ampia pagina di cronaca. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della realizzazione della nuova galleria a San Concordio, una galleria osteggiata dai comitati. Ebbene c'è stato un attentato fortunatamente fallito al cantiere. Fallito attentato al cantiere della cosiddetta galleria coperta San Concordio. I gnoti hanno tentato di dare fuoco ad una gru operante sul cantiere, ma alla fine non ci sono riusciti. Il fatto è stato scoperto dagli operai e la ditta che sta eseguendo i lavori ha sporto denuncia ai carabinieri. Gli gnoti vandali hanno agito approfittando dello stop al cantiere provocato dalle numerose quarantene degli operai. Impossibile però al momento stabilire con esattezza quando hanno agito. Di sicuro hanno aperto il vano motore, hanno stappato il serbatoio dell'olio e hanno cercato di appiccare il fuoco all'interno utilizzando alcuni legni. Il tentativo però è andato a vuoto e gli autori hanno lasciato il campo. Il fatto è stato scoperto lunedì al rientro dei lavoratori. I vertici dell'azienda hanno subito sporto denuncia ai carabinieri di San Concordio, adesso impegnati nel non facile compito di risalire ai responsabili del gesto. potrebbero essere d'aiuto le telecamere delle vicine scuole, a meno che le immagini non siano già state cancellate dal sistema automatico. La gru, che ha riportato danni per migliaia di euro, è già stata sostituita. I lavori quindi proseguono, ma adesso con qualche preoccupazione in più dopo questo gesto insensato e pericoloso. E adesso i numeri legati al contagio. Nuovi casi registrati in Toscana sono 9.877, con tasso di positività che però scende all'11.6. I ricoverati sono 1.478, soltanto uno in più rispetto a ieri. Calano le terapie intensive che sono 104. Ci sono state 24 decessi, tre decuali a Lucca. Nella nostra provincia i nuovi contagiati sono 1.016. E la Guardia di Finanza ha sequestrato, proprio nella nostra provincia, 14.000 mascherine FFP2. Non a norma. La Guardia di Finanza di Lucca ha posto sotto sequestro amministrativo oltre 14.000 mascherine FFP2, prive dei requisiti minimi di sicurezza e potenzialmente pericolose in quanto posto in commercio in violazione degli standard europei. L'azienda che ha messo in commercio i dispositivi si trova alla periferia di Lucca. Le fiamme gialle hanno appurato che le mascherine non rispettavano gli obblighi prescritti ai distributori da un apposito regolamento comunitario, secondo cui i dispositivi di sicurezza prima di essere messi in vendita devono essere accompagnati dal marchio della comunità europea e dà informazioni sul prodotto in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori finali dello Stato in cui sono messe sul mercato. L'assenza proprio di quest'ultimo elemento, spiega la Guardia di Finanza, ha decretato la mancata regolarità dei dispositivi messi in commercio dalla società lucchese. Al titolare dell'attività è stato elevato un verbale di accertamento. Adesso rischia una sanzione amministrativa da parte della Camera di Commercio di Lucca che potrà arrivare fino a 60.000 euro. Le mascherine sono state poste sotto vincolo amministrativo in vista della loro definitiva confisca. Adesso andiamo a Via Reggio, sono state ufficializzate le date del Carnevale. Si svolgerà dal 20 febbraio al 12 marzo il Carnevale di Via Reggio 2022. L'ufficializzazione delle date è arrivata oggi dalla Fondazione Carnevale. Sele e sfilate dei carri su Viale a Mare, apertura domenica 20 febbraio, con la cerimonia di inaugurazione e l'alza bandiera alle 14.30. Giovedì 24 in notturna con inizio alle 18.00. Domenica 27 alle 15.00. Martedì 1 marzo alle 15.00. Sabato 5 inizio alle 17.00. Infatti avremo tre date in febbraio e tre date in marzo e saranno il 20, il 24 e il 27 di febbraio e l'1, il 5 e il 12 di marzo. Quindi avremo anche il giovedì grasso e il martedì grasso. Tre gli spettacoli pirotecnici confermati dall'amministrazione del Carnevale Via Reggino con i quali si intende salutare Re Burlamacco e tutto il suo corteggio. Li faremo il giorno di giovedì grasso, il giorno del martedì grasso e poi per la chiusura, come sempre, saranno gli spettacoli meravigliosi. Oltre al biglietto d'ingresso ai corsi mascherati è obbligatorio il Super Green Pass e la mascherina. Gli ingressi ovviamente dovremo aspettare la commissione tecnica che si riunirà in questi giorni per poter vedere i numeri come dovranno essere gestiti, se ci dovrà essere un'autoregolamentazione ma comunque diciamo che in linea di massima siamo molto ben fiduciosi e daremo comunque comunicazione dei numeri quanto prima. Serve assolutamente il Super Green Pass, occorre la mascherina FFP2 e tanta tanta voglia di divertirsi. Apriamo la pagina della politica. Mario Pardini, imprenditore lucchese a rotto gli indugi, sarà il candidato a sindaco della lista civica Lucca 2032. Mancava soltanto l'ufficialità. Questa mattina Mario Pardini ha annunciato la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative e lo farà sostenuto dalla lista civica Lucca 2032 di cui fanno già parte anche i consiglieri Torrini e Consani usciti dalla lista civica Siamo Lucca. Visione a lungo termine, proposte e partecipazione dei cittadini al processo decisionale. Lucca 2032 presenta ufficialmente la candidatura alle elezioni amministrative che ci saranno o a primavera o in autunno a Lucca e presenta Mario Pardini come candidato sindaco. Sì, noi siamo partiti ormai un anno fa, abbiamo fatto tanti incontri sul territorio, ci avevamo chiesti se c'era bisogno di una proposta politica nella nostra città, ci siamo dati la risposta un anno fa di sì e dopo un anno siamo ancora più convintamente sicuri che la risposta fosse sì perché quello che la cronaca locale e anche nazionale fa vedere è che c'è grande delusione da una parte e dall'altra quindi c'è bisogno di risposte, portare avanti soltanto progetti concreti e presentarli alla città. Mario Pardini però ha fatto a lungo parte del tavolo di centro-destra, sembrava ci fosse la benedizione della Lega o comunque anche del presidente Marcello Pera che è sempre stato vicino alle vostre proposte, poi un tavolo che Mario Pardini ha abbandonato per scegliere di posizionarsi più al centro. Sì, in realtà non è tanto un discorso di posizionamento ideologico, è proprio un discorso di parlare delle idee, progetti e proposte. Il tavolo del centro-destra ha avuto il suo percorso, noi ovviamente non siamo critici nei confronti di nessuno, abbiamo ritenuto che non ci fossero più le condizioni di restare a quel tavolo, siamo disponibili o comunque ancora a dialogare con chi vuole parlare sulle nostre proposte e le nostre idee. Al centro inizia però ad esserci un certo affollamento, è lì che si sarebbe dovuta inserire la candidatura di azione e quella più che ventilata di Del Ghingaro. La sua candidatura chiude quindi questo spazio, qual è il suo rapporto con Marco Remaschi e con il sindaco di Viareggio? Io il sindaco Del Ghingaro non l'ho mai conosciuto se non così fugacemente in occasioni formali, ovviamente quello che, dico una cosa banale, sta facendo un ottimo lavoro, ieri c'è stata la notizia di Viareggio nelle 10 selezionate, questo è una cosa importante. Marco Remaschi, anche lui ci siamo conosciuti così fugacemente, quindi ovviamente io ho stima delle persone e ripeto, noi siamo disposti a ascoltare chiunque, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, perché in questo momento la cosa di cui non c'è bisogno è di riportare scontri ideologici, bisogna parlare di progetti e futuro della nostra città. Ancora la politica Fratelli d'Italia ha reso noti i nomi dei propri candidati a sindaco per i comuni di Camaiore e Bagni di Lucca, si tratta dell'avvocato Claudia Bonuccelli per Camaiore e dell'imprenditrice Anna Maria Frigo a Bagni di Lucca. Le due candidate, spiega il coordinamento provinciale del partito, saranno adesso proposte al tavolo degli alleati con l'auspicio che possano diventare le candidate dell'intero centrodestra. Adesso un problema di cui si discute da tempo, che sta affliggendo non soltanto i privati, ma anche i cantieri pubblici. Il caro prezzi delle materie prime e i ritardi nelle consegne mettono l'edilizia in difficoltà. Anche i lavori pubblici scontano il caro prezzi e le difficoltà di reperimento delle materie prime in edilizia. Qualche esempio? A Porcarici saranno sicuramente ritardi nell'ampliamento della scuola elementare La Pira, la ditta che ha in appalto i lavori, ha già avvertito il sindaco Fornaciari. E ad alto pascio dovranno essere rivisti a rialzo i costi di realizzazione del futuro palazzetto dello sport. Quello dei lavori pubblici però è solo un aspetto del problema. Ci sono anche e soprattutto i lavori nel settore privato. Qui l'aumento dei costi energetici e delle materie prime si accompagna all'aumento di domanda di materiale edilizio e di mano d'opera esplosa con il super bonus 110%. Diversi cantieri di abitazioni o condomini sono fermi o in forte ritardo a causa di questi motivi e il rischio è di non riuscire a rispettare i limiti temporali imposti dal governo per usufruire degli sconti. Ma far andare fuori dai gangheri gli imprenditori è soprattutto il cambio in corsa delle regole, più volte deciso dal governo. Un modo di fare che mette in seria difficoltà le aziende. Tutte le volte che cambiano una virgola si ferma un ingranaggio. Per farlo ripartire purtroppo ci vogliono mesi. Il problema è che l'ingranaggio che si ferma è la liquidità che serve alle imprese perché le imprese che fanno lo sconto in fattura purtroppo per ogni virgola che lo Stato cambia perde tre mesi di liquidità un'azienda ma tre mesi di liquidità è veramente insostenibile. Su questo fronte gli imprenditori chiedono quindi chiarezza una volta per tutte per evitare danni alle aziende e ai privati cittadini. Adesso torniamo a Lucca per una vicenda che vede coinvolta una signora che aveva messo peperoncino vicino alle fioriere fuori casa per tenere lontani i cani e gli è accostata una segnalazione alle forze dell'ordine. Aveva sparso peperoncino in polvere davanti a casa sua per tenere lontani i cani e questo lunedì mattina si è trovata due agenti della polizia municipale alla porta per chiederne conto. E' successa la signora Pina Micheletti residente in Borgo Giannotti segnalata alle forze dell'ordine per aver provato questo metodo piccante per tenere lontane dalle fioriere di fronte alla propria abitazione gli animali che accompagnati da padroni rispettosi venivano lasciati liberi di evacuare sulle piante e sul marciapiede costringendo lei e gli altri residenti e commercianti del Giannotti a ripulire ogni giorno i lastricati imbrattati. Lunedì mattina mi sono arrivati due vigili della polizia municipale dicendo che avevano ricevuto una segnalazione riguardo il peperoncino che io avevo messo vicino a queste fioriere. Perdere tempo per un peperoncino messo per salvaguardare la mia igiene perché qui, e poi non solo io, tutto il borgo, lei ha sentito anche qui questi negozi, a mattinate noi dobbiamo spazzare tutti i rifiuti di questi cani. Loro sono venuti a fare il sopralluogo in base al coso che avevano ricevuto e poi mi hanno detto che avevo ragione, però loro sono dovuti venire a vedere e a rendersi conto che c'era il peperoncino. Però non mi hanno saputo dire allora io che cosa devo fare per evitare questa cosa. La donna è stata quindi invitata a rimuovere la sostanza urticante e ad evitare di spargerla nuovamente. Bene, è tutto per la prima parte del nostro telegiornale. Breve break, poi la pagina sportiva. Grazie. 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 Grazie.